Siete venuti qui per ascoltare la nostra opportunità, la nostra occasione d'oro, quello che noi vi vogliamo diciamo proporre, ok? E credo che dopo aver ascoltato questa opportunità sicuramente sarete talmente entusiasti che parlerete con la vostra upline per iniziare subito questa raccolta punti. Allora la tua occasione d'oro, ottenere prodotti per la tua salute in maniera completamente gratis. I nostri prodotti sono sistemi di salute, ok? Noi abbiamo dei coperchi ma questi coperchi ci fanno mangiare sano. Sappiamo che l'intestino è il nostro secondo cervello. Quindi se noi mangiamo sano, stiamo bene, viviamo in salute e viviamo una vita migliore. Quindi per questo è un'occasione d'oro perché questi prodotti li potete avere completamente gratuiti. Adesso vediamo un attimino. Non mi si sposta le slide. Aiuto Tito. Perché non mi va avanti la slide? Perché quando tu col mouse... Ecco, fatto, 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 fatto. Allora, guarda che bei prodotti insomma abbiamo. Abbiamo il nostro Magic Cooker. È un ottimizzatore di cottura. Avete visto le nostre dirette magari e avete visto quanto ci aiutano in cucina. Ci fanno cucinare in maniera veloce. Ci fanno cucinare senza sporcare, senza odori in casa. Ma la cosa fondamentale, importante, perché ognuno di noi debba avere questo meraviglioso ottimizzatore è perché ci fa mangiare sano, basse temperature. Non ci va a rovinare le proprietà otanolettiche. Ormai diciamo che i cibi, le verdure hanno già poche sostanze. Perché? Perché comunque i pesticidi, il terreno sfruttato, cioè le zucchine di oggi non sono più come quelle di 30 anni fa, 40 anni fa. Ok? E se noi nella cottura tradizionale disperdiamo tutti i sali minerali, tutte le vitamine, col nostro Magic Cooker invece li teniamo dentro all'interno. Quindi mangiamo più sano, mangiamo meglio. Ok? E poi abbiamo il nostro kit forno meraviglioso. Ci permette di sostituire completamente il forno. Ed ho scoperto anche che molte volte noi pensiamo con la nostra mente di cucinare più sano nel forno, no? Pensiamo alle patatine fritte. Le facciamo nel forno. Perché? Perché ci sembra che sia più sano mangiarlo nel forno. In 20 gradi. E quindi che cosa fa? Mare, quello che è, in questo forno noi abbiamo un forno a vapore ventilato che mantiene basse le temperature ma ci fa delle cotture straordinarie. E poi abbiamo le nostre pentole quadrate, ha il coperchio qua tondo, abbiamo le quadrotte in terracotta, abbiamo le nostre batterie con le pentole, le diamanti, abbiamo le vulcaniche che sono il top della gamma, delle pentole straordinarie che ci permettono insieme al nostro ottimizzatore di cucinare in maniera ancora più sana e ancora più veloce. Perché sono realizzate in maniera tale che aiuti, completi, completamente il nostro Magic Booker. Abbiamo la perfetta, le ultime uscite e il meraviglioso San Pietro chiamato cupolone ormai da tutti perché orda un po' la cupola di San Pietro. Ecco, qualsiasi prodotto della nostra linea tu potresti averlo in maniera completamente gratis. E quando dico gratis intendo proprio gratis, non dovete dare un contributo poi per averlo, è completamente gratis. E avere gratis la salute credo che sia veramente un'occasione d'oro perché questi prodotti non solo ve li diamo gratis, ma vi accorgerete che nel tempo questi prodotti vi fanno anche guadagnare. Già solo così perché risparmierete e il risparmio è la prima forma di guadagno. Voi risparmierete tantissimo. Io che non utilizzo più il forno, cioè io ho notato e usandolo a 360 gradi ho notato un risparmio sulle bollette. E' stato contabilizzato all'incirca un risparmio del 30% sulle nostre bollette tra luce, gas e acqua. Il 30%, ognuno di noi sa quello che spende delle proprie bollette, ok? Fatevi il conto annuo e togliete il 30%. Ecco, con quei soldi potete andare in vacanza con dei soldi che già state spendendo, quindi senza toccare nient'altro. Già così vi fanno guadagnare e noi ve li diamo gratis, cioè meglio di così. Allora, adesso vi spieghiamo come fare per averli gratis. Apri la tua raccolta punti. Bastano solo 10 punti e ogni punto, ogni 100 euro vale un punto, ok? Diciamo che sono 10-15 clienti. Ora, aprire una raccolta punti una persona può pensare, e vabbè, vuol dire che devo acquistare. Perché in realtà, se noi ci pensiamo, una raccolta punti funziona così. Andiamo al supermercato, ci aprono una raccolta punti, in base a ciò che tu acquisti, ottieni dei punti, ok? Che poi si vanno a accumulare. Bene, la nostra raccolta punti, invece, è completamente diversa. Come funziona la nostra raccolta punti? Non è solo ciò che acquisti tu, ma è anche ciò che acquistano i tuoi amici, persone che tu ci farai conoscere, persone che porterai sulla nostra gruppo, Veggie Cook e la Ricetta del Cuore, o persone con cui tu parlerai. Ecco, se loro decidono di diventare nostri clienti, tu avrai i punti. E quando arriverai in 10 punti, ti avrai il tuo regalo. Cioè, è veramente, veramente semplice, è veramente facile, non devi per forza acquistare tu. Questa è la forza della nostra raccolta punti. Ma vediamo nello specifico. Oggi abbiamo due sistemi con cui lavorare, con cui, diciamo, fare il passaparola e far conoscere il nostro ottimizzatore. Prima lavoravamo solo ed esclusivamente nelle case, quindi un party system. Era l'unico modo, no? Il lockdown, per quanto disastroso sia stato, a noi ha insegnato e ha, diciamo, ci ha modificato, ci ha fatto conoscere il mondo del web. E questo mondo del web ci è piaciuto veramente tanto perché funziona, perché da casa abbiamo visto che le persone possono vedere, possono seguire e durante le dirette vedere lì al momento cosa facciamo. È vero, non si può assaggiare, ma comunque il risultato lo vedono. Ok? Quindi, come bisogna fare? Come sviluppare 10 punti? In maniera semplice. Possiamo organizzare a casa nostra degli incontri con 4-5 amici, oppure invitare delle persone direttamente sul gruppo Makeup per le ricette del cuore. Ok? 50 contatti, se andiamo a vedere quante persone conosciamo. Molte volte dici, vabbè, ma io non conosco nessuno. Beh, proviamo ad aprire la nostra lista di amici Facebook, proviamo ad aprire il nostro cellulare e vedere tutti i nomi che ci sono lì. E vi accorgerete che veramente conosciamo tantissima, tantissima gente. Basta fare questo e otterremo questo risultato. Allora, diciamo che parliamo un attimino della soluzione a casa. Quindi organizzo due dimostrazioni a casa mia, dove invito 5 persone ognuno. In totale io incontro 10 persone. Diciamo che solo 4 di queste 10 persone ci organizzano a loro volta una dimostrazione a casa. Ok? Con altre 10 e 10, 20 persone. Ok? Allora, queste dimostrazioni noi incontreremo tutte queste persone. Oppure, oppure, invitiamo le nostre persone, i nostri contatti sulla pagina Makeup per le ricette del cuore, a vedere delle dirette in maniera proprio semplice. Basta fare un click, noi insegneremo come fare, invitare le persone a vedere una diretta. Le persone vedono la diretta, noi facciamo una breve intervista, cosa ti è piaciuto di più, cosa avresti voluto vedere, qual è la cottura che ti ha veramente colpito e che ti è piaciuta. Insomma, faremo questo tipo di domande. E se loro poi decidono di diventare i nostri clienti, voi comunque avrete dei punti. E quindi, quindi in totale abbiamo incontrato dalle 30 alle 50 persone. E se anche solo la metà di loro decide di diventare i nostri clienti, non tutti, non tutti e 50, non tutti e 30, ma la metà, diciamo 15 persone, decidono di diventare i nostri clienti, voi avete totalizzato 1000 euro, cioè 10 punti. Oggi qui per esempio c'è Simona, Simona ha finito da poco la raccolta punti. E l'ha fatto in maniera proprio semplice, invitando persone a vedere le dirette. Tra l'altro ci siamo prestati anche a fare una diretta insieme per giocare, per divertirsi un attimino, ci siamo divertiti quel giorno. E da casa, da casa, semplicemente che cosa ha fatto? Ha ottenuto il suo regalo e tra poco arriverà il corriere che le porterà il regalo scelto. Lei ha scelto dei regali tra la gamma Magic Cooper, lei ha scelto. Giusto Simona? Esatto. Quindi arriva il corriere a casa e vi porta il vostro regalo. Ora, da questo punto, cosa possiamo fare? Avete tre scelte, tre, non una, non due, ma tre scelte. Quindi voi potete continuare a fare la vostra raccolta punti. Ogni cinque punti voi scegliete un regalo. Potete continuare all'infinito, l'avete già fatto, basta continuare a farlo, le rinvitate facendo le stesse cose, le stesse identiche cose. Oppure potete decidere di lasciare finire così. Avete preso i vostri regali, continuate a seguirci sul nostro gruppo Magic Cooper e le ricette del cuore e la nostra avventura finisce qui. Rimarrete i nostri clienti, vi vogliamo bene, ogni tanto ci sentiamo, ma non succede niente. Oppure potete scegliere di fare le stesse cose che avete fatto fino adesso, ma questa volta Magic Cooper, invece di darvi un regalo, vi darà un regalo in denaro. Avrete del denaro, ok? Vediamo un attimino come fare. Mettiamo che avete finito la vostra raccolta punti e mettiamo che decidete di provare a guadagnare del denaro invece che dei premi. Vogliamo vedere un po' come funziona? Allora, la Life Prime ti offre un'opportunità a misura di uomo e su misura per te. Perché questo? Perché sei libero, sei indipendente. Decidi tu dove, come e quando lavorare. Ovviamente più fai, più ottieni. Quindi decidi tu. Decidi di lavorare solo part time, due giorni a settimana. Fallo due giorni a settimana. Decidi di collaborare con noi solo la sera. Non c'è problema. Vuoi collaborare con noi solo la mattina? Va benissimo. Solo nel weekend? Meglio. Non c'è problema. Ognuno di voi è libero. È un'opportunità a su misura. Avete il vostro negozio, la vostra attività. E quindi puoi decidere di risparmiare perché i nostri prodotti ti permettono comunque di risparmiare e quindi acquistare anche dei prodotti con degli sconti. Perché chi collabora con noi ha diritto anche a degli sconti. Puoi decidere di guadagnare denaro. È come aprire un'attività. La stessa identica opportunità che ha una persona che apre un'attività. Solo che se apri un'attività e devi pagare l'affitto. E devi pagare la corrente. E devi magari pagare degli operai. E devi pagare l'IVA. E devi pagare il commercialista. E tante, tante... La merce. La merce che hai nel negozio la devi pagare. E se poi non va ti rimane a magazzino. Quindi sono soldi depositati lì che non ti fruttano niente. Bene. La nostra attività è come avere un negozio ma senza avere tutte queste spese. E quindi l'unica cosa che puoi fare è guadagnare. Oppure puoi decidere di guadagnare più denaro e più tempo. Creandoti che cosa? Creandoti un'entrata autonoma. Una rete di persone che collaborano insieme. In team. In squadra. E crearti un'entrata autonoma. Vediamo un attimino. Allora. La Lifetime cosa ti offre? Ti offre un sito personale ospitato sulla piattaforma Lifetime. Quindi tu avrai a disposizione. E' come se tu hai a disposizione completamente l'azienda Lifetime. Magic Cooker. Avrai il magazzino. Persone che lavorano per te. Tu fai l'ordine e subito i magazzineri si occupano di prendere il pacco. Di impacchettarlo. Di spedirlo direttamente al cliente. Non devi andare tu a consegnare la merce al cliente. Arriva direttamente al cliente. Poi hai una produzione. Hai persone che producono il nostro prodotto. Ce l'hai a disposizione. Hai un magazzino a disposizione. Con tanti prodotti. Senza spendere un centesimo per avere questo magazzino. Hai tutto a disposizione. Hai un ufficio online. Dal nostro cellulare. E il nostro ufficio online. L'altra sera ero in una cena. In una cresima. In una cena. Mi è arrivato un messaggino. Una cliente. Mi ha chiesto di fargli un ordine. Io ho aperto il telefono. E ho fatto un ordine. La mia vicina. Mi fa. Cosa fai? Dico faccio un ordine. Sto lavorando. Nel frattempo. E che lavoro fai? Faccio un lavoro. Che si può fare ovunque. Perché io il mio ufficio me lo porto dietro. Posso lavorare ovunque. In vacanza. Sotto l'ombrellone. A cena. Dove voglio. Questa è la sensazione della libertà. Cos'è che ci rende felici? La libertà ci rende felici. Le cose ci danno gioia. La casa ci dà gioia. La macchina ci dà gioia. Ma la libertà ci rende felici. E poi abbiamo un back office. Delle ragazze che si occupano dei vari problemi. Che potrebbero insorgere durante tutto questo percorso. Quindi magari un ordine in ritardo. Piuttosto che contattare il corriere. Piuttosto che annullare un ordine perché lo devo rifare. Insomma abbiamo delle ragazze a disposizione. Che si occupano di tutto quello che potrebbero essere i problemi. E poi la cosa fantastica di questa attività. La cosa che posso dire che mi ha colpito di più all'inizio è che è meritocratica. È meritocratica a 360 gradi. Cioè tu vieni retribuito e pagato per ciò che fai. E in più hai dei premi aggiuntivi. Cioè mi ricordo la prima volta quando ho cominciato. Io ho cominciato un po' così. Non mi sono informata su quello che dovevo fare. Mi sono buttata nella mischia e proviamo e basta. E mi ricordo che Tito mi chiamò e mi disse guarda che c'è un evento. Vieni perché devi essere premiata. Premiata. Io lavoravo in fabbrica. Mi facevo tre culi. Scusate il termine francesismo. Lavoravo in fabbrica. Mi facevo davo veramente tanto per avere zero. Perché poi se non... Purtroppo dove ero io era così. Poi non so se in tutte le parti è così. Ma dove ero io. Cioè se non lecchi. Detto così. Cioè tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ma se non sei un lecchino rimani lì. E io a me leccare non mi piace. Sinceramente. Quindi io facevo il mio lavoro. Ero retribuita. Ma soddisfazione zero. Tu potevi fare il meglio. Ma soddisfazione zero. In questa attività io ho fatto quello che riuscivo a fare. Quello che era nelle mie possibilità. E mi chiamano per essere premiata. Mi ha colpito questa cosa. Mi ricordo il mio primo premio è stato una collana Swarovski con un cuoricino. È stato meraviglioso. Quella collana aveva un valore straordinario. Mi ha dato un'emozione. L'ho portato una vita. Poi l'ho dovuto togliere perché mi faceva un po' di allergia. Ma non tanto il valore della collana ma il valore del gesto. Ci sono dei premi veramente straordinari. Noi possiamo avere delle mini gare. Abbiamo un contest dove tutti, tutti indistintamente, chi fa tanto, chi fa poco, ottiene comunque dei premi aggiuntivi. È stato, è meraviglioso, è meraviglioso. In base a quello che tu fai hai il tuo premio. Comunque hai un premio. Abbiamo vinto delle borse, abbiamo vinto dei profumi, abbiamo vinto delle penne, abbiamo vinto dei bracciali, collane, abbiamo vinto viaggi. Abbiamo vinto dei viaggi. Siamo andati a Parigi. Adesso dobbiamo andare a Valencia. Covid permettendo. Abbiamo fatto una crociera. È stata meravigliosa fare quella crociera tutti insieme. Io purtroppo non ho potuto fare il viaggio di nozze. Quindi quando ho vinto la crociera e l'ho vinta per tutta la mia famiglia, ho detto a mio marito prepara le valigie perché ti porto in crociera. Ed è stata bellissima la soddisfazione di vincere una crociera completamente gratis. È stato meraviglioso. Io auguro a tutti di provare questa emozione. Sei autonomo ma non sei lasciato solo a te stesso. Si lavora in squadra, come dicevo prima. Siamo un team. Lavoriamo in squadra. Non sarai mai abbandonato. Vuoi lavorare da solo in autonomia? Non c'è problema. Hai bisogno di aiuto? Ci siamo. Ci sarà la tua offline. Se non c'è lei, c'è l'altra. Ancora più sopra, se non ci sono io. Se non ci sono io, c'è Tito. Se non c'è Tito, c'è Chiara. Se non c'è Chiara, c'è Veronica. Se non c'è Veronica, c'è Pano. Insomma, siamo una squadra unita. Ci aiutiamo perché il vostro obiettivo è il nostro obiettivo. Ciò che voi desiderate è il nostro obiettivo. Quando le ragazze vengono premiate, qualcuno della mia squadra viene premiato, per me l'emozione è il triplo. Cioè, io godo come un riccio a vedere le persone della mia squadra o anche delle altre squadre. Insomma, le persone che raggiungono gli obiettivi vengono premiate. Siamo soddisfatti perché dico, ho fatto bene il mio lavoro. La mia collega ha conquistato questo regalo, ha conquistato questa qualifica, ha conquistato questo prodotto. Io sono felice. E se siete felici voi, noi siamo ancora più felici. Quindi si lavora in armonia. Questa è la cosa fantastica. Ok. Diciamo che hai finito la tua raccolta punti e decidi di lavorare con noi. Quindi partiamo subito dal 19%. Fatto questo percorso, partiamo subito dal 19%. Andiamo a vedere quali sono un attimo le classifiche, le qualifiche e le percentuali che si possono guadagnare. Vedete che uno special seller segno, dopo fatto un percorso di IZP, decidi di lavorare, a questo punto parti subito con 19%. Special seller segno. Poi abbiamo il team seller al 23,5%. Dopodiché ci sarà un top team seller al 28,10%. Un coordinator al 30,50% e un area manager al 32,7%. Questo è il primo step della nostra classifica. Poi si passa alle qualifiche ancora più alte. Ok. Se ti piace lavorare da solo, se ti piace la vendita, se ti piace vendere, sei felice tu, siamo felici noi. Quello che desideri per noi va benissimo. Ma se ti piace lavorare in team, allora noi ti proponiamo un metodo più veloce per salire di qualifica. Ok? Vediamo un attimino come è facile passare da un 19% a un 28%. in pochissimi passaggi. In pochissimi passaggi. Ovviamente cosa devi fare? Quello che hai fatto fino adesso. Esattamente quello che hai fatto fino adesso. Questa volta però proponi, dai l'opportunità, passi il favore ad altre persone. Dai la stessa opportunità che è stata data a te di conquistarti i prodotti, la dai a altre 5 persone. Ok? Dai ad altre 5 persone l'opportunità di conquistarsi due prodotti gratis. E quindi cosa succede? 5 persone totalizzeranno 1000 punti carriera, 1000 euro. Basta solo che tu ne faccia 400 e in team di squadra avete totalizzato 5400 punti carriera, 5400 euro. A questo punto sei passato al 28% in maniera totalmente semplice. Ora io sto parlando di 5 persone ma non c'è un numero stabilito. Puoi proporlo a 10, a 15, a 20 persone e questo fatturato si triplica. Ok? Dipende da te. Dipende da ciò che tu vuoi fare. Vogliamo parlare di guadagni? Vogliamo vedere un attimino quali possono essere i guadagni che questa opportunità ti può portare? Parliamo un attimino di soldi? Allora, vediamo un attimino. Qui ci sei tu? Che cosa hai fatto? Hai fatto i tuoi, hai dato l'opportunità alle tue 5 persone e hai fatto i tuoi 400 punti. In totale avete fatto 5400. Ora, le persone a cui hai dato l'opportunità, le 5 persone che hanno prima conquistato i prodotti e poi accettato di collaborare con noi vogliono fare la stessa cosa. quindi anche loro proporranno l'attività a 5 persone e anche loro totalizzeranno 5400, 5400, 5400, 5400, 5400. Tu farai i tuoi 5400 e insieme di team avremo totalizzato 33.000 euro, 33.000 pc. Guardate cosa andiamo a guadagnare. passiamo al 37% e guadagniamo 4.290 euro. Ora, io ho usato 5 persone, potrebbero essere 10, potrebbero essere 15, ma facciamo che anche la metà, ok? Questa proiezione funziona a metà, non tutti decidono di fare 5400, non tutti decidono di proporre questa attività, diciamo che una metà funziona, e beh, il nostro guadagno si riduce soltanto a 2100. Può essere un problema? Io credo proprio di no. Bene, la nostra opportunità è questa, quella di collaborare con un'azienda stupenda, dove ci sono persone stupende, dove si può lavorare da casa, tranquillamente, da casa facendo quello che abbiamo sempre fatto. Siamo lì, invitiamo i nostri amici, li invitiamo un po' alla volta, li avvisiamo che li stiamo invitando in un gruppo, li avvisiamo che li stiamo invitando in un gruppo e gli diciamo di invitare altre persone in cambio comunque di un regalo, eh? Chi ci porta quattro amici, poi avranno dei regali, e quindi questa è la cosa meravigliosa a catena, a catena andrà tutto quanto in questi discorsi e poi soprattutto è semplice, è semplice, di squadra, è veloce. Voi, se ci seguite su Magic Cooper e le ricette del cuore, potete vedere quanto ci divertiamo, perché noi ci divertiamo, quindi non mi sento neanche di dire lavoro, quando dico è un lavoro, mi sento un po' strano, perché in realtà noi ci divertiamo, ma stiamo lavorando effettivamente, qui ci sono donne, mogli, che portano a casa lo stipendio, che ne portano anche più del marito, ci sono donne che decidono comunque di arrotondare e quindi avere un'entrata personale per fare le loro cose, per andare all'estetista, per andare alla parrucchiera, per andare, eh, per comprarsi un divano. Ieri abbiamo conosciuto la storia di Rita, Rita Petrilli, che si è comprata il divano, ha comprato il divano, il marito non ci credeva, e invece lei ha comprato un divano da sola, collaborando con me, senza andare a toccare quello che era i soldi della famiglia, senza andare a toccare altro. Allora, questo è ciò che noi vi vogliamo presentare oggi e tutti i venerdì lo presentiamo perché vogliamo proprio trasmettervi il nostro entusiasmo, vogliamo proprio trasmettervi quello che è la nostra azienda. Io collaboro con questa azienda ormai da sette anni. Ho cominciato per gioco perché, come vi ho detto, lavoravo in una fabbrica dove non ero considerata. Beh, io in questa azienda mi sono sentita amata, mi sono sentita rispettata, mi sono sentita trattata veramente bene con dei premi aggiuntivi, con degli elogi perché ogni volta che raggiungevo un piccolo obiettivo ma anche piccolo i complimenti si spregavano e questa è una cosa che ci rende felici. Il fatto di essere liberi, liberi di poter collaborare e liberi di poter lavorare quando e come e dove vogliamo. Questa è la nostra opportunità. Ora, se ci sono delle domande, se qualcuno ha delle domande, dei dubbi che gli vengono in mente può farli adesso oppure contattate voi in privato la vostra consulente, la vostra appline, la persona che vi ha inserito, che vi ha suggerito oggi di collegarvi in questa Zoom e chiedetevi voglio cominciare come facciamo e da dove partiamo perché poi vi spieghiamo le basi, come partire, come cominciare, come fare. Va bene? Se ci sono delle domande potete farlo. Io spero di essere stata abbastanza chiara anche se sono Katia e vi do appuntamento telefonico con le persone con cui con le persone che vi hanno invitato qui. Chiamatele, chiamatele, chiamatele perché è veramente un'opportunità d'oro. Ok? Bene, vedo che non ci sono domande io chiuderei qui vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ok? Ciao a tutti. Aprite i microfoni così ci salutiamo. Ciao. 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 Ciao.